La foto, curiosa, ha fatto subito il giro dei social. Due cinghiali che attraversano tranquillamente la strada nel centro abitato di Sartirana. È successo in via media all'altezza del passaggio a livello, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. L'immagine è stata scattata dal gestore di un noto ristorante e pubblicata su un gruppo dedicato alle segnalazioni in paese. Subito è stata inondata di commenti. A quanto pare non si tratterebbe di cinghiali selvatici, bensì da allevamento, che sarebbero scappati da un recinto. Come spesso accade, però, l'immagine è talmente forte da diventare simbolo di un problema, quello dell'invasione degli ungulati. Nelle campagne della Lomellina, la presenza ai relativi danni dei cinghiali è riscontrata da anni. Proprio a Sartirana e nella vicina Torre Beretti, alcuni automobilisti avevano segnalato nei giorni scorsi la presenza di animali selvatici a bordo strada, con conseguenti i rischi per i malcapitati che se li dovessero trovare improvvisamente in carreggiata. I rischi di incidente sono alti, mentre gli agricoltori fanno i conti con i danneggiamenti dei campi. Un problema che negli anni è andato sempre più aumentando senza trovare una soluzione. La clamorosa immagine dei cinghiali a passeggio per le vie di Sartirana non ha fatto altro che rinfocolare il dibattito. Poco importa, infatti, se quelli ritratti nella foto siano animali selvatici o scappati da un vicino allevamento, il problema delle scorribande e degli ungulati per i cittadini lomellini resta ugualmente.